lo sai perché sono qui no ma lo immagino hai allevato tu quella ragazza esmeralda ma certo è chiaro e chi è chi è esmeralda chi credi che sia è la figlia della signora bianca è proprio lei cristiana è lei cristiana no no dio mio non può essere no che cosa fai perché ti disperi tanto perché dici che non può essere potresti anche guardarmi in faccia no se ti credi innocente dimmi che non è vero dimmi che non no è una menzogna sei una gran bugiarta l'ho vista con questi occhi era morta sembrava morta ma non lo era allora è stato quella notte che hai mentito mi ha ingannata no sì sì mi ha ingannata mi hai detto che era nata morta poi l'hai messa da parte al suo posto sei andata a prendere quel bambino ancora non l'ho